Musica Voltiamo pagina e vi presentiamo ora il nostro ospite Carlo Piccinini, presidente regionale di Fedagri, l'associazione delle cooperative agricole che fa capo a Conf Cooperative Emilia Romagna. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Piccinini, dopo la siccità e il caldo dell'estate, sono arrivati il maltempo, la grandine, una stagione davvero complicata per gli agricoltori? Sì, una stagione molto complicata, non vorrei contraddirla, ma le difficoltà dal punto di vista meteorologico sono cominciate già prima, con un inverno freddo ma senza piovosità e una primavera congelate e brinate che hanno compromesso alcune importanti produzioni della regione e poi le grandi siccità e il grande caldo di quest'estate hanno fatto il resto. Dunque tantissime le culture che ne hanno risentito, visto che le condizioni ambientali avverse sono durate per così tanto tempo. Assolutamente sì, noi in questa fase, diciamo alla fine della stagione, come Fedag, stiamo un po' raccogliendo i dati e sicuramente il settore vitivinicolo è uno dei più colpiti. Stiamo ultimando la vendemmia, ma si parla sicuramente di un caldo di produzione dell'oltre il 25%, così come sono stati molto colpiti i cereali, soprattutto quelli che vengono raccolti nella seconda parte dell'estate, tipo il mais o il sorgo, ma anche la soia. C'è poi da aggiungere che altre culture magari sono riuscite a salvare le produzioni, ma con un grande utilizzo di irrigazione e quindi costi maggiori. L'equazione è facile, no? Raccolti scarsi, costi maggiori vuol dire pochi guadagni. Dunque avete pensato a un progetto, un'idea per venire incontro all'esigenza e ai problemi degli agricoltori. Assolutamente sì, almeno ci proviamo. Abbiamo trovato grande corrispondenza con una banca locale, una BCC e Milbanca, molto attenta alle necessità e ai bisogni dei propri territori e quindi abbiamo insieme a loro cercato di fare dei fondi che possano aiutare gli agricoltori a diluire nel tempo i danni che hanno subito le loro produzioni quest'anno. Un accordo importante che prevede un plafondo significativo per dei prestiti agevolati. Sì, la banca ha messo a disposizione 50 milioni di euro per queste attività che pensiamo siano necessari a dare un po' di ristoro a tanti nostri produttori. Ci faccia qualche esempio concreto. Per che cosa possono essere richiesti questi fondi e come possono essere impiegati dagli agricoltori? Abbiamo voluto puntare assolutamente sulla semplicità perché questo penso sia estremamente necessario al giorno d'oggi e quindi semplicemente sono fondi che l'agricoltore può utilizzare per avere liquidità, per poter pagare i propri fornitori, pagare i propri dipendenti, pagare le tasse, pagare i contributi, non avendo tutti i soldi che normalmente si aspetterebbe di incassare al termine di una stagione. Con anche garanzie agevolate, no? È più facile ottenere questi soldi? Sì, abbiamo garanzie agevolate e soprattutto anche dei tassi di interesse molto bassi in modo tale che possano veramente essere un aiuto vero e non aggiungere problemi in futuro agli agricoltori. Bene, allora noi ringraziamo e salutiamo il nostro ospite, lo ricordiamo Carlo Piccinini, presidente regionale di Fedagri, che è l'associazione delle cooperative agricole che fa capo a Conf Cooperative Emilia Romagna. Grazie. Grazie mille, grazie a voi.